Buongiorno, ben trovati primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, lunedì, come sempre, grande spazio allo sport nella seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo per ordine, apriamo con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo al centro, vediamo l'edizione di Pescara, il titolo di apertura, lo vedete, riguarda la scomparsa del portiere di calcio a 5, ex, tra l'altro portiere di calcio a 5 del Pescara, campione d'Italia nella stagione 2015, Antonio Capuozzo, trovato senza vita all'alba di ieri vicino la sua auto, si ipotizza un malore per l'ex giocatore anche della nazionale azzurra di calcio a 5, e poi vedete a centro pagina la foto a 14, oggi arriva il parere del Ministero, i sindaci, danni enormi per il transito sulla statale dei mezzi pesanti, a cui è interdetto invece il transito proprio nel tratto dell'A14, proprio nel tratto che riguarda le province del Basso Terramano e del Pescarese. Vediamo le altre notizie, l'ospedale di Pescara scoppia, pronto soccorso, pazienti in attesa, fino a 24 ore a Montesilvano, rioccupano la casa, i vicini danno l'allarme, poi a Francavilla l'ultimo appello per Luca Spoto, sparito 15 anni fa. Torniamo a Pescara, cronaca, missione punitiva, ragazzo aggredito, gli chiedono il nome e lo picchiano sulla riviera, un 18enne finisce in ospedale. Vediamo anche altre notizie, lavoro, le imprese abruzzesi cercano laureati e tecnici specializzati. E poi Abruzzo si cambia da settembre 2021, TV arrivano, i nuovi decoder bonus per cambiare l'apparecchio. Vediamo poi in basso altre notizie che riguardano lo sport, in primo piano il Pescara, perché è iniziata oggi la settimana che porterà al campionato, al ritorno al campionato dopo la lunga sosta. Ieri c'è stato un amichevole in famiglia per i Biancazzurri allo Stadio Adriatico, presente anche il Presidente Sebastiani che apre a Pettinari, sì è uno dei papabili, trotta a noi piace. Poi vedremo anche nel corso dei nostri Tg l'intervista che abbiamo realizzato ieri con il massimo dirigente della società Biancazzurra. Parliamo ancora di calcio, eccellenza regionale, Equessapone piazza il colpo a Lanciano, cade il penne importante di prestigio, il risultato dell'acqua e sapone, in casa della vicecapolista. Vediamo anche quello che è accaduto in Serie A Roma, K.O., la Juve vince ed è campione d'inverno, brutto infortunio per l'attaccante giallorosso Zaniolo che dovrà essere operato. Vediamo in alto una notizia, anzi l'intervento per meglio dire del Presidente della Regione Marco Marsiglio che ricorda la tragedia del terremoto della Marsica di 105 anni fa, era il 1905. L'ultimo titolo riguarda il lutto nel mondo del giornalismo italiano perché è scomparso ad 84 anni Gian Paolo Panza, giornalista controcorrente, per tanti anni giornalista all'Espresso, a Repubblica, al giornale, al Corriere della Sera, intellettuale spesso criticato e come vediamo anche in questo titolo controcorrente, criticato per le sue opinioni che però d'altro canto trovavano il favore anche di tante altre persone, di tanti altri intellettuali. Un grande giornalista e soprattutto un grande scrittore, Gian Paolo Panza, perché i suoi libri, soprattutto negli ultimi anni, avevano avuto un grande successo, la scomparsa nelle ultime ore del giornalista all'età di 84 anni. Andiamo a vedere il centro, la prima pagina edizione di Chieti, Lanciano Vasto, parliamo di Università, Ateneo Bocciato, il numero chiuso, questo è il titolo di apertura, il Tar, uno studente può cambiare facoltà senza il test d'ingresso. Vediamo poi le altre notizie di spalla sulla prima pagina di Chieti del centro, Pagano incontra Febo al voto, restiamo uniti, si parla di Forza Italia in questo caso, Guardia Grele, Corsa Sindaco, il centro-destra sceglie Di Prinzio. Vediamo anche Lanciano, Palazzi nell'area ex Torrieri, sì al progetto. Vediamo poi in basso, in questo caso, le notizie di sport che riguardano le formazioni teatine. Al Chieti, parliamo di basket di serie B maschile, al Chieti il derby con il Giulianova, l'ESA inizia bene il ritorno e rincorre le posizioni di vertice. Volley, la SIE Cortona si riscatta e vince, ora è seconda in classifica. Buone notizie dunque per il volley della nostra regione. Vediamo anche la prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, siamo proprio nel capoluogo aprutino, in questo caso lavori scuole, chiesta l'archiviazione per la procura, non ci sono reati negli interventi post-sisma. Andiamo a vedere ancora, ci spostiamo a Giulianova, Piazza Dalmazia, il forum scoppia la polemica, Roseto degli Abruzzi, via le barriere dalla stazione, ma solo nel 2021, ci spostiamo in Val Vibrata, Martinsicuro, l'aveco rimane ferma, il giudice deciderà il 22. Vediamo ora lo sport in chiave teramana, riscossa del Teramo in Sicilia, vittoria importante in casa della Sicula, Leonzio Allentini risolve Magnaghi, interrotta la serie nera e invece Roseto è costretto ad inchinarsi, e questo è il basket di serie a due maschile, alla forza del Verona, sconfitti gli Sharks. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del Centro, brucia il bus, un ragazzo salva tutti, questo è il titolo di apertura, lo vedete, Pullman di Marsicani andava a cepposta per te, la nota trasmissione televisiva, il giovane ha tenuto le porte aperte, permettendo ai passeggeri di poter uscire rapidamente, abbandonare il mezzo. L'Aquila, sangue infetto, scatta il maxirisarcimento, ancora l'Aquila, studente, invita il ministro a visitare le scuole. Vediamo anche cosa accade in Valle Peligna, Sulmona, casa in affitto per separati e divorziati. Vediamo lo sport in basso, Avezzano, Scivolone, tra i fischi, siamo la Serie D, passa la San Giustese, Mecomonaco, Paris, Sa, Cosa Serve, Biancoverdi contestati dai tifosi. Promozione, l'Aquila, Cala e il Tris, Eurogoal di Carosone, formazione rosso-blu che viaggia con il vento in poppa. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, l'apertura è dedicata alla vicenda della strada statale 16, a 14 si decide sul viadotto Cerrano, il MIT esamina le analisi tecniche sul viadotto, poi la parola alla procura di Avellino, via la strettoia se avrà accertata la sicurezza, gli autotrasportatori chiedono i danni. Vediamo le altre notizie, sempre dalla prima pagina del Messaggero, una eccola qui, Pianeta Web, Rocco Siffredi, il più cliccato nelle ricerche con Google. Andiamo a centro pagina, anche sul Messaggero ritroviamo la tragica notizia della scomparsa dell'ex portiere di calcio a 5, lo vedete nella foto del Pescara, tra l'altro giocatore anche della Nazionale, Antonio Capuozzo, colpito da un malore in strada, accaduto ieri a Montesilvano. L'Aquila, delitto d'amico, trovato il DNA di uno dei killer. E poi Avezzano, infiamme il bus per la De Filippo, abbiamo visto poi la prontezza di un giovane che è riuscito a fare aprire le porte, a far uscire tutti gli occupanti del mezzo. Vediamo in alto le notizie, i richiami delle notizie di sport che troveremo all'interno del giornale, una pagina, quella di sport, come sempre molto ricca nella giornata, nel giorno del lunedì, con la nostra rassegna stampa. Serie B, Pescara, c'è l'ok di Sebastiani per il ritorno di Pettinari. Serie C, Teramo, l'anno inizia bene, squadra Corsara con Magnaghi gol a Lentini con la Siguro e Onzio. Serie D, il Pineto mette nei guai i Lecchieti, il Notalesco perde in casa con il Campobasso in diretta TV. Abbiamo esaurito le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere invece l'edicola nazionale, partiamo dal Corriere della Sera, ora la riforma dell'IRPEF. Vedete la prima pagina, il titolo di apertura. L'intervista parla il Presidente del Consiglio, il Premier Giuseppe Conte. Il voto in Emilia-Romagna non è decisivo. La verifica a fine mese e rivedremo le pensioni, ha detto Conte, gravi inadempienze di autostrade all'Italia, da ristrutturare. Dunque, intervista a 360 gradi del Presidente del Consiglio su tutti i giornali. Ritroviamo ovviamente la notizia della scomparsa di un grande giornalista come Giampaolo Panza. Era tornato tra l'altro a scrivere per il Corriere della Sera, maestro e cronista. Questo è il titolo del Corriere che dedica al suo editorialista, proprio Panza, scomparso nella giornata di ieri. Dicevo, anche criticato Panza nei suoi scritti. La sua sinistra è quell'anatema. E poi un narratore con il binocolo. Ci sono i commenti di Pierluigi Battista e di Walter Vertroni, proprio sulla scomparsa di Giampaolo Panza. Vediamo un altro titolo importante, perché dopo il sinodo e i segnali di riforma, parliamo della Chiesa, il Papa Emerito, Joseph Ratzinger, difende il celibato dei preti e dice non posso tacere. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Decreto sicurezza e tutto. Come prima restano le multe record per chi salva i migranti. Irritazione del ministro Lamorgese, riforma, pronta da due mesi. Vediamo quello che accade in Libia. Tripoli la tregua, non sa però di pace. E poi, vedete le altre notizie. Piano per la pensione a 62 anni, il governo dice no, costa troppo. E poi addio a Panza, giornalista sempre contro. E poi lo schiaffo di Ratzinger. Ne parlavamo prima leggendo il titolo del Corriere della Sera. Vedete nella foto i due papi, uno di fronte all'altro. Lo schiaffo di Ratzinger, il celibato non si tocca. E questa è una frase, quella di Ratzinger, che è destinata a far discutere, a far riaccendere, ripartire le polemiche proprio sul celibato dei preti. Vediamo il fatto quotidiano. Autostrade, la revoca è pronta, ora il PD è d'accordo con il Movimento 5 Stelle. Vediamo anche un altro titolo che riguarda la guerra in Libia. La tregua in Libia tiene. Di Maio, caschi blu dell'Unione Europea. La richiesta del ministro italiano. Vediamo il giornale. Di male in peggio, resuscitano il PC. Questo è il titolo di apertura. Zingaretti imbarca Leu e Conte giura, ora più sinistra. Tesi copiata, bufera sulla neoministra. E poi vedete anche sul giornale, ovviamente, il ricordo di Giampaolo Panza, maestro di pensiero e la lotta contro l'ideologia, l'addio ad un monumento del giornalismo italiano. Vediamo anche un altro titolo in questo caso per parlare invece della polemica, se così la possiamo dire, tra Stati Uniti e Teheran, se così la possiamo definire. Trump scacco a Teheran i ragazzi iraniani con lui. E poi vediamo il prossimo quotidiano dell'edicola nazionale, che è il messaggero, il messaggero nella sua prima pagina. Tanti titoli in apertura. Vediamo Libia, l'Italia in via più militari. E poi Preti, celibato indispensabile, Ratzinger in calza Bergoglio. E poi in alto, Giampaolo Panza, addio al giornalista, che ruppe il tabù a sinistra. E poi vediamo altri due titoli, Roma sconfitta infortuni per Zaniolo, stagione finita. E poi l'allarme dei geriatri, sanità, pochi medici per l'Italia, che invecchia, mancano anche i posti letto. Andiamo a vedere la prossima prima pagina, che è quella del mattino, il quotidiano di Napoli. Sgravi colpo al Made in Italy. Nelle pieghe della manovra, il taglio del credito d'imposta, dal 50 al 6% sui nuovi prodotti. E poi il pontefice merito, Ratzinger, corregge Papa Bergoglio, Preti, celibato, è indispensabile. Vediamo ancora altri titoli della prima pagina del messaggero. C'è anche una foto che riguarda le campagne del mattino. Napoli nei supermarket si vende l'alcol. Ai minori, infine Libia, l'Italia pronta a inviare più militari. Questa è la notizia che riguarda la politica estera. Libero, si processi anche Conte sulla Gregoretti Salvini. Ha un complice, scrive Libero. E poi le giravolte del capo del governo, Giuseppe Conte, che vedete nella foto, cambia idea, scrive il quotidiano Lombardo, a seconda che stia con la Lega o con il PD. E poi se Di Battista ruba il posto, ha Di Maio i fratelli coltelli, così sono definiti, di Cinque Stelle. Da Libero, vedete poi in basso anche sul quotidiano Libero, l'addio di Giampaolo Panza, l'uomo che riscattò il sangue dei vinti. Questo titolo è proprio il titolo di uno dei libri che ha avuto più successo, proprio di Giampaolo Panza. Vediamo il secolo.it, Grillini per Salvini, nessuna deportazione a Castelnuovo di Porto. Il sottosegretario Grillino difende Matteo Salvini. Vediamo quest'altra pagina, quest'altro quotidiano nazionale, che è il sole 24 ore, spese mediche con il contante a rischio, gli scontrini fiscali e poi pensioni, le uscite di sicurezza, le soluzioni da quota 100, opzione donna, le misure ancora valide quest'anno. E poi si blocca il Job Act del lavoro autonomo. Stop a tutte le deleghe. Vediamo ancora la stampa di Torino. Nasce l'Europa Verde, piano da mille miliardi. E poi Teran, la polizia, spara sulla protesta degli studenti. E poi Ratzinger difende il celibato dei preti. Questo è l'altro titolo che riguarda il quotidiano torinese. Ci spostiamo a Roma con il Tempo. Vedete il titolo di apertura del Tempo è proprio sulla querelle tra Ratzinger e Bergoglio. I papi sono due e se le danno, tra due settimane, Francesco potrebbe ratificare l'apertura ai preti sposati, chiesta dal Sinodo. E allora ecco l'anticipazione dell'ultimo libro di Benedetto, indispensabile, il celibato dei sacerdoti. Vediamo la verità. Movimento ciclostile a capo dell'istruzione. Una copiona. Ministro Azzolina accusato di plagio. Scrive la verità. E poi Monti consiglia Macron. Al popolo neanche le brioche sulle pensioni. Il prof peggio di Maria Antonietta. Questo è l'altro titolo del quotidiano. La verità. Infine i centri sociali ci costano 60 milioni. Titolo nella parte bassa della pagina. Secolo XIX. Siamo a Genova. L'Europa varia il piano verde da mille miliardi. Fondi per l'Ilva. E poi il quotidiano di Genova. Il secolo XIX. Che festeggia la vittoria della Sampdoria. Goleada per risalire 5 a 1 al Brescia. Della formazione guidata dall'ex tecnico, tra l'altro della Roma, Claudio Ranieri. E il Verona degli X. Invece batte 2 a 1 il Genova. Servono rinforzi. C'è una parte di Genova che ride. Quella blu cerchiata è un'altra che piange. Invece quella rosso-blu con il Genova battuto a Verona. Che resta nelle zone bassissime della classifica. E poi vedete addio a panza. Giornalista e scrittore controcorrente. Lasciamo dunque l'edicola nazionale. Abbiamo visto i titoli di tanti giornali che troverete oggi in edicola. Noi torniamo a parlare delle questioni abruzzesi. Ripartiamo dal centro, da pagina 2, per parlare di lavoro. Il lavoro nel 2020, appena iniziato il nuovo anno. Ci sono offerte. Vedete il titolo per 23 mila posti. Servono laureati e tecnici. Vediamo ancora la televisione in HD dal 2021. Ma c'è il bonus per il decoder. Vediamo ancora. Oggi ad Avezzano. Ne parlavamo anche prima. Cerimonia per ricordare il sisma. La Marsica celebra le 30 mila vittime di quel 13 gennaio del 1915. Vediamo ancora i disagi sull'A14. Oggi il Ministero chiede la riapertura ai tir, proprio la riapertura del passaggio dei tir sull'autostrada. A decidere però è la procura di Avellino. Previste nuove code, l'allarme del sindaco di Silvi. Emergenza nazionale. Avevamo sentito nei giorni scorsi il primo cittadino di Silvi. E poi, vedete, parla l'europarlamentare della Lega, eletto in Abruzzo. Casanova, ore d'anni vanno compensati. I cittadini non possono patire per i ritardi politico-burocratici, spiega e dice l'europarlamentare della Lega. Siamo alle cronache dalle province. Partiamo da Pescara. Il dramma del mondo sportivo abruzzese. La scomparsa di Antonio Capuosso, che avrebbe compiuto tra qualche mese 40 anni. Stava rientrando dal lavoro e si è sentito male sotto casa. Squalificato, sognava di tornare tra i pali. Il dramma, la scomparsa prematura del giocatore che aveva vinto lo scudetto con il Pescara a calcio a 5 nel 2015. Il ricordo dei Biancazzurri per sempre nei nostri cuori. De Martinis, il sindaco di Montesilvano. Ragazzo per bene, Masci e una grave perdita. I due sindaci di Pescara e Montesilvano ricordano Antonio Capuosso. A Porto Allegro l'amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti per le prossime ore. Un ottimo palmares per Antonio Capuosso da giocatore in tre stagioni, uno scudetto e quattro coppe. La seconda giovinezza di Antonio riparte dal Real Dem e vince il Tricolore con il Pescara dell'allora presidente Danilo Iannascoli. Quella fu una stagione memorabile per il calcio a 5 pescarese proprio con la vittoria del Tricolore in una stagione memorabile. Andiamo avanti, parliamo di sanità, l'ospedale Scoppia, parliamo dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Influenza, esami ed ecografie, 24 ore di fila al pronto soccorso malgrado il boom delle vaccinazioni e accessi record nelle parti di emergenza, urgenza e geriatria. Parla anche il primario, l'infettivologo Parruti, c'è ancora tempo per vaccinarsi, toccheremo quota 100 mila dosi somministrate. Conclusi i lavori per la nuova struttura, si parla del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in corso l'iter per appaltare arredi e attrezzature. Inaugurazione prevista entro sei mesi, lo dice il primario del reparto di pronto soccorso, il dottor Albani. Andiamo a vedere la prossima pagina del quotidiano Il Centro, eccola qui via di sotto come una pista, Pignoli subito i dissuasori. Ci sono stati incidenti, uno gravissimo, due notti fa e c'è questa proposta del consigliere comunale, capogruppo dell'Udc al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, che chiede subito i dissuasori su una delle strade più importanti della zona dei Colli, ovvero via di sotto. E proprio dalla zona dei Colli ieri un'auto si è ribaltata, ventenne fortunatamente, illesa, cronaca, ragazzo aggredito sulla riviera, missione punitiva di un terzetto di coetanei, diciottenne, finisce in ospedale. E poi torniamo alla tragedia dell'altro giorno di sabato a Pescara, carabiniere morto, attesa per i funerali. Proseguiamo, siamo a Montesilvano, rioccupano l'alloggio, l'allarme dei vicini, blitz di vigili urbani e carabinieri. A Montesilvano, emergenza abitativa per un'altra famiglia in via Rimini, interviene l'avvocato. Vediamo altre notizie. Montesilvano Colle, motociclista, sbanda e finisce in ospedale. E poi differenziata, pubblicato il nuovo calendario per la raccolta, sempre a Montesilvano. Siamo a Francavilla, lo studente scomparso, sparito 15 anni fa, l'ultimo appello dei genitori di Luca Spoto. Mercoledì il tribunale decide sulla sua morte presunta, ma la famiglia Spoto non rinuncia alla speranza di sapere. Vediamo un'altra notizia. A 24 anni apre una libreria in Paese, il posto che cercavo a tocco da Casauria. La scommessa, la bella scommessa anche rischiosa di Antonella Sini, c'è tanto da fare, sono pronta. Dunque a 24 anni decide di aprire una libreria. Parliamo anche di Amazon, della grande multinazionale che aprirà un suo punto a San Giovanni Teatino. Faccenda di Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulle selezioni per il nuovo personale. Siamo alla pagina di Chieti del Quotidiano Il Centro. La sentenza sfida al Ministero Ateneo il Tarboccia. Il numero chiuso. E poi Delio sulla Tari. Siamo a Chieti pronti ad andare in procura. Vediamo anche la prossima pagina del Quotidiano Abruzzese nella sua edizione del lunedì. Siamo ancora a Chieti, si parla di amministrative, verso il voto Pagano corre da Febo. L'obiettivo è restare uniti. E a Guardia Grele, accordo raggiunto, il candidato del centrodestra è Donatello Di Prinzio. Proseguiamo con la pagina dell'Aquila. La sentenza, una causa lunga, vent'anni, sangue infetto. Ecco il maxi risarcimento. Gran Sasso, Pignatelli, centro turistico, sì a Cannone e nuovi impianti. E poi Rocca di Cambio, lo chalet bruciato, sarà ricostruito. E poi in lutto il mondo della Chiesa Cattolica dell'Aquila. Perché è scomparso Don Vasco, sacerdote amico della città dell'Aquila. Si è spento ad 86 anni, il prete rosso, una vita spesa per i poveri, riposerà nel cimitero comunale di Fontecchio. Proseguiamo. Siamo nella Marsica d'Avezzano. Paura in A24 sfiorata alla tragedia. Vanno a C'è posta per te il bus brucia. In fiamme attivo, li pullman di Marsicani per il programma TV. Ragazzo impedisce la chiusura automatica della porta. E salva gli occupanti, davvero coraggioso, un giovane eroe, lo possiamo definire questo ragazzo. Che è riuscito ad evitare, ad impedire la chiusura automatica e a far scendere velocemente tutte le persone. Siamo a Trasacco, gran folla per l'addio a Erika nell'omilia di Don Grassi. L'appello per una sanità più umana. Palloncini in volo all'uscita della chiesa. Ricorderete la tragica scomparsa di questa giovane di 26 anni, morta in cause ancora da chiarire. Avezzano, cacciatore uccide per sbaglio l'amico 29enne finanziere di Avezzano. Muore in Calabria e il cordoglio il dolore per la tragica scomparsa di questo finanziere in tutta la città di Avezzano. Carsoli, Lilia e i domiciliari, petroliere arrestato. Oggi l'interrogatorio, questa è l'altra notizia che leggiamo dalla pagina della provincia dell'Aquila, del quotidiano Il Centro. Siamo alla pagina di Teramo, procura il dopo terremoto, lavori nelle scuole. E' chiesta l'archiviazione e poi il caso, ma per le elementari lucidi, disposte, nuovi indagini, nuovi accertamenti. Fonderia Veco, siamo a Martinsicuro, Fonderia Veco ferma. Il 22 decide, il giudice si prospetta il fallimento o il concordato. La Regione chiede l'intervento del Ministero Castellalto. Finisce con l'auto nella scarpata, ferito un giovane. Vediamo la prossima pagina del centro, che dovrebbe essere però quella relativa, eccola qui, alla provincia di Teramo. Roseto, slitta l'abbattimento delle barriere alla stazione. Vedete il titolo. Le ferrovie hanno detto al sindaco che i lavori cominceranno nel 2021. E poi lo scontro politico sullo ruzzo. Il sindaco di Nereto contro D'Alberto. Il sostegno. Io sostengo, dice il sindaco di Nereto, il CDA. E poi Giulianova scoppia la polemica al forum. Esaminate le proposte su Piazza Dalmazia, ma il sindaco accusa Arboretti, strumentalizza l'incontro. Questo è il titolo che riguarda Giulianova. Siamo arrivati allo sport. Andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano Il Messaggero. Vedete l'apertura dedicata ovviamente alla scomparsa tragica dell'ex portiere di calcio a 5 del Pescara, Antonio Capuozzo, trovato senza vita. Era a terra l'altra notte, vicino casa, forse ucciso da un infarto. E poi a Pescara, imbrattato il murale al centro storico, sfregio e d'annunzio, il presidente del Consiglio regionale Sospiri parla di ignoranza. E poi lavori sociali e reddito di cittadinanza. Masci, impiegheremo 100 persone. La promessa del sindaco di Pescara. Vedete poi in basso, maresciallo suicida. Si cerca un perché, lotta agli abusivi, rioccupano l'alloggio. Famiglia sgomberata a Montesilvano. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila del Messaggero. Lungo viale Duca degli Abruzzi, il totale abbandono delle scuole. E poi compagnia degli instabili, un travolgente successo nell'ambito dell'iniziativa di Sant'Agnese. E poi scuole al palo, incontro, curcio, comitati. E poi ancora delitto di Barisciano, estrapolato il DNA. Andiamo a vedere la pagina di Avezzano sul Mona. Di Carlo, ecco il centro per il riuso. Siamo ad Avezzano, il patron della raccolta differenziata in città. Vara il progetto. E poi attivoli a fuoco bus di Marsicani che andavano dalla De Filippi. Trasacco, mezza Marsica per il saluto. A Erika Nazicone, morta dopo un malore. Vediamo ancora sul Mona, Democrat, eletti nuovi direttivo e segreteria. Proseguiamo. Chieti, Asle, bilancio in perdita, severità agli in vista, ma non per l'organico. Parliamo di sanità teatina in questo caso. Poi Lanciano, lost signal, inchiesta chiusa, 11 a giudizio. Andiamo in basso, vasto, cinghiali in città, l'arci caccia, troppi pericoli. Riattivare i controlli. Vediamo poi in basso un titolo che riguarda, scusate, Ortona. I bambini scoprono l'arte con il murale di Dilizio. Andiamo a vedere l'altra pagina del quotidiano Il Centro. Scusate, l'altra pagina del quotidiano Il Messaggero. Eccola qui, Teramo, siamo alla pagina di Teramo e provincia. Poca acqua, scoppia la guerra, adesso Isola vuole le Royal Highties. Gli approvvigionamenti nel paese che ora chiede qualcosa in cambio. Il sindaco Di Marco, falde asciutte, abbiamo perso la nostra ricchezza. Giulianova, cimitero, scoperta shock, trovati dei gatti scuoiati. Vediamo poi più in basso la cronaca. Incidente a Castellalto, vola con l'auto nella scarpata per 20 metri. Gravi, molto gravi le condizioni di un 28enne. Giulianova, forum, la coalizione Costantini contro il cittadino governante. Poi il personaggio, povertà, il capoluogo. Si mobilita per Gabriele la storia di quest'uomo che è finita anche agli onori della stampa nazionale. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo fermarci, come sempre, al termine della prima parte di mattino 6. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi torneremo in studio per parlare di sport. In studio, seconda parte di mattino 6. Avevamo esaurito la lettura dei quotidiani regionali nelle pagine di cronaca. Abbiamo visto l'edicola nazionale, le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ora possiamo parlare di sport, partiamo dalle prime tre pagine dei tre quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport, vedete signora d'inverno, campione d'inverno la Juventus, dopo la vittoria per 2-1 a Roma. Dramma Zaniolo, crociato rotto, oggi si opera europeo a rischio. E poi sarà accontentato Ericsson, il supercolpo, Young in arrivo, Vidal, Giro e Chessi. Si sono in attesa, parliamo di quello che potrebbe accadere in casa Inter per quanto concerne il mercato. Vediamo i risultati di Serie A. Sabato tre anticipi, Cagliari-Milan 0-2, Lazio-Napoli 1-0, Inter-Atalanta 1-1, ieri Udinese-Sassuolo 3-0, Fiorentina-Spallo 1-0, Sampdoria-Brescia 5-1, Torino-Bologna 1-0, Verona-Genua 2-1, Roma-Juventus 1-2. Si chiude il quadro questa sera con il posticipo Parma-Lecce in programma al Tardini, classifica Juve 48, Inter 46, Lazio 42, Atalanta e Roma 35, Cagliari 29, Torino 27, Verona-Parma-Milan 25, Napoli-Udinese 24. Fa impressione vedere il Napoli a metà classifica nella parte destra della classifica stessa. Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo-Sandoria 19, Lecce 15, Genova 14, Conille-Brescia. Chiude la SPAL a 12 punti. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, Juve Shock, Scudetto d'inverno a Sarri, Zaniolo si rompe il crociato. Vediamo anche tutto sport, Mezza Juve scappa via campione d'inverno e poi quotidiano torinese dedica spazio ovviamente alle formazioni di Torino e dunque anche alla squadra Granata del Torino. Mazzarri, il tecnico della formazione Granata, contro tutti il tecnico scatenato sulla contestazione sul terreno di gioco. Non le ha mandate a dire il trainer Mazzarri del Torino. Vediamo lo sport sul centro, Romeo Ventus 1 a 2, scatto della Juventus e campione d'inverno. Vedete le pagine che riguardano la massima serie, abbiamo visto i risultati. In primo piano il personaggio Milan sulle spalle di Ibrahimovic, lo svedese a 38 anni, ancora trascinante con gol e carisma. All'esordio con la maglia rossonera un gol e tra l'altro un'altra rete annullata per fuori gioco. Parliamo del Pescara, le grandi manovre in Casa Bianca Azzurra per quanto riguarda il mercato. Sebastiari la punta, fine mercato, Pettinari sì è uno dei papabili. Ieri ha parlato il presidente della società abruzzese nel corso dell'amichevole giocata allo stadio di Ratico, amichevole in famiglia. Eravamo presenti anche con le nostre telecamere oggi nel corso dei nostri Tg, delle nostre edizioni del Tg6. Vi proporremo una approfondita intervista proprio con il presidente del Pescara che ha parlato appunto di mercato. Masciangelo ripartire con il piede giusto, lo dice l'ex giocatore della Juventus Under 23. Domenica ci sarà la Salernitana e poi settore giovanile. Pavone non basta, la primavera va KO. I Bevi di Le Grottaglie si arrendono alla Roma al Tre Fontane per 2-1. Andiamo a vedere anche il messaggero per quanto riguarda il Pescara. Playoff passano per l'Adriatico. Pescara Masciangelo indica la via. È fondamentale fare punti in casa e poi Sebastiani conferma su Pettinari. L'uomo per noi. Parliamo anche del personaggio dello sport abruzzese che si sta facendo onore e che ha vinto il Land Hour 2019. Il palonotista pescarese Francesco Di Fulvio in cima al mondo. Dedico il successo a chi ha creduto in me e ai miei nonni. Dunque complimenti al palonotista pescarese Di Fulvio. Vediamo la pagina del Teramo. Parliamo di Serie C. Teramo ci pensa Magnaghi Gol. Inizia bene il nuovo anno per il diavolo che espugna il campo dei siciliani della Sicula Leonzio Allentini per 1-0. Prosegue il silenzio stampa dei Biancorossi. Bucaro tecnico della Sicula Leonzio dice è andata proprio secondo le mie previsioni che non erano proprio positive perché è arrivata la sconfitta per la formazione siciliana. Andiamo a vedere sul centro in questo ping pong. Vedete Teramo risorge. Spezzata la serie nera. Vediamo anche gli altri risultati. Avellino Vibonese 1-1. Catanzaro Bisceglie 2-1. Cavese Regina 3-0. Crolla la capolista sul neutro di Castellammare di Stabbia con la Cavese. Monopoli Paganese 0-1. Potenza Ternana 0-1. Rende Casertana 2-2. E poi Rieti Picerno 0-1. Virtus Francavilla Catania 0-0. Viterbese Bari 1-1. Il Bari pareggia al 94esimo ed evita dunque la sconfitta in casa della formazione laziale. E noi andiamo a vedere il servizio di Acopo Forcella proprio sulla vittoria in terra siciliana del Teramo. Con le unghie con la rete di Magnaghi al ventesimo il Teramo inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno 0-1 sul campo della Sicula Leonzio per la formazione di Tedino che interpreta la partita esattamente con lo spirito che a volte a questa squadra è mancato. Coltello tra i denti e pochi, pochissimi fronzoli. L'allenatore sceglie una punta ma dà le chiavi della manovra a Viero con Ilari e Santoro. Magnaghi punta con Bombaggi e Costa Ferreira a supporto. L'ex Pordenone però gioca quasi da seconda punta ed è il primo a farsi vedere al sesto con una conclusione neutralizzata da Polverino. Approccio giusto quello bianco-rosso ancora Bombaggi da piazzato ma la specialità stavolta non sortisce il gol del vantaggio. Quello che invece scaturisce da un corner al ventesimo. Testa di Ilari con il pallone che sta per terminare fuori. Polverino nel tentativo di bloccare la palla se la fa scappare. Soprano rimette al centro e per Magnaghi un gioco da ragazzi appoggiare in rete il suo quinto centro in stagione. Trovato il vantaggio esce la Sicula e Tomei è bravo almeno in un paio di circostanze a sventare la minaccia portata dalla formazione di Bucaro che sembra prendere confidenza con il match. Il diavolo però controlla e quando può riparte come al trentatresimo quando Bombaggi approfitta dello scivolone di Ferrini e si in vola verso la porta bianconera sparando però incredibilmente alto. Occasione clamorosa per il Teramo che tiene in vita la partita che nel finale di tempo potrebbe comunque registrare il raddoppio. Magnaghi lavora bene per Santoro? Destro volante della mezzarra sfera a lato. Ancora la formazione bianco-rosso in apertura di ripresa. Al 49esimo Tentardini assiste dalla sinistra Magnaghi contratto dal portiere bianconero con Santoro fermato da Tafa prima di chiudere in porta. Il più pericoloso però è sempre Bombaggi che spara alto al 52esimo mentre la stoccata di Magnaghi servito da Cancellotti è troppo debole per falmare all'estremo di casa. Tedino inserisce Arrigoni per Viero, Ammonito salterà Lavellino e Iotti per Magnaghi col diavolo che senza punte si abbassa troppo e non riesce a ripartire come vorrebbe. Troppo stanchi Bombaggi e Costa Ferreira mentre sul fronte opposto Bucaro aveva già inserito Catania ed Esposito. Tedino se ne accorge e butta nella mischia Birligeo all'ottantacinquesimo. Il romeno si fa vedere dopo quattro minuti con un tiro alto e con una conclusione deviata sul servizio di Costa Ferreira. Ma in generale il Teramo non rischia praticamente nulla e in camera tre punti fondamentali nella settimana di avvio della fase 2 del campionato. 28 lunghezze in classifica e secondo successo esterno in stagione. Due ingredienti fondamentali prima del Tour de Force della prossima settimana con Avellino, Catanzaro e Cavese. E questo è il servizio di Jacopo Forcella sulla vittoria del Teramo. Del Teramo e di Teramo parleremo ovviamente martedì sera nel corso di Proteramo. Ora parliamo invece di Serie D. Ieri giornata importante e agrodolce per le formazioni abruzzesi. In programma due derby anche il big match tra Notaresco e Campobasso. Vedete la pagina del centro dedicata ad una delle due sfide tra formazioni abruzzesi. Il Giulianova che sfiora l'impresa pari di rigore per la Vastese. 1-1 nella gara giocata allo Stadio Aragona. L'undici del grosso avanti con Cipriani. Maspreca nel finale si fa raggiungere. Espulsione per Di Filippo. I biancorossi agganciano il Montegiorgio al quinto posto. Dunque Vastese che entra in zona playoff. Andiamo a vedere il servizio dunque sulla gara giocata allo Stadio Aragona dove c'era per noi Stefano Reganadi. Finisce pari e patta il derby dell'Aragona di Vasto tra Vastese e Giulianova. Partita molto contratta nel primo tempo, bellissima nella ripresa soprattutto dopo l'espulsione di Di Filippo con il Giulianova che può recriminare per non aver chiuso la gara prima del rigore di Palumbo. L'undici biancorosso in cerca di continuità dopo la vittoria nel derby contro il Chieti chiede strada al Giulianova per entrare nei playoff, vero obiettivo di stagione dopo l'importante mercato di riparazione. Cambia Amelia che rispetto a sette giorni fa manda in campo i suoi con il 4-2-3-1 con Giorgi che aveva saltato la sfida di Ortona per squalifica. Palumbo, Ravanelli. Giulianova in crisi di risultati e risucchiata nella zona calda della classifica si presenta a Vasto con il 3-5-2. Diamutene ritrova una maglia da titolare in difesa. A centrocampo ci sono Castiglia con Ramico e Cipriani. In avanti Surriano e Francesco Di Paolo. Subito una tegola per Marco Amelia che all'undicesimo perde per l'infortunio Caciotti al suo posto in campo Altobelli. Due minuti e arriva anche il primo tiro in porta della gara. Lo effettua Lavastese con Francesco Bardini che prova la conclusione a giro che risulta però debole centrale. Si fa vedere anche il Giulianova al ventunesimo. Calcio di punizione in aria con Diamutene che non riesce ad intervenire. La sfera resta lì con Surriano che ci prova dal limite ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Protesta al ventottesimo Lavastese. Ripartenza in contropiede con il pallone che arriva a Vittorio Esposito il quale entra in aria di rigore ma al momento del tiro viene contrastato duramente da Castiglia per il direttore di gara il signor Pacella di Roma 2 si può continuare. Continua a cambiare Amelia che vede la sua squadra faticare a scardinare l'attenta difesa giallorossa e allora questa volta Pizzutelli si mette in proprio calciando dalla distanza con la sfera ribattuta centralmente da Bifulco. Il più lesso ad arrivare sulla sfera è Dosantos che pecca di coordinazione e mette incredibilmente la palla al lato con l'Aragona già in festa. Ripresa subito con una novità in campo per Amelia che butta nella mischia Cavuoti lasciando negli spogliatoi Ravanelli. Al settimo timide proteste anche in casa Giulianova con una trattenuta in area di rigore ai danni di Francesco Di Paolo ma il direttore di gara ben appostato fa proseguire ma al quarto d'ora arriva la svolta della gara. Bec in mezzo al campo di Francesco Di Paolo che salta in velocità di Filippo che con un tocco galeotto lo mette a terra. Pochi dubbi per il direttore di gara che sventola il rosso diretto al difensore Biancorosso che sconsolato abbandona il campo tra le proteste dei suoi compagni. Oltre al danno anche la beffa perché sulla seguente punizione calciata da Cipriani il Giulianova va in vantaggio complice l'errore di Bardini che si fa scivolare il pallone dalle mani facendo esplodere i tifosi di fede giallorossa. La vastese prova a rispondere e lo fa al diciannovesimo con Palumbo che si libera del diretto avversario e con il mancino spara verso la porta. Attento bifulco. Continua la pressione della vastese che ci prova anche al ventiquattresimo con il neo entrato Cavuoti ma il suo mancino ad incrociare non inquadra lo specchio della porta. La costante ricerca del pareggio da parte dei Biancorossi però a prevere proprie praterie alle ripartenze dei Giuliesi come al trentesimo quando il neo entrato Torelli si invola verso la porta. Avversario assaltando giocatori come Birilli ma una volta entrato in area di rigore il suo tiro esce per questione di centimetri. Passato lo spavento torna a premere la vastese, pressione che viene premiata al quarantesimo quando Vittorio Esposito viene steso giù in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione dagli 11 metri. Si presenta Palumbo che resta freddo e spiazza bifulco. L'ultima occasione al quarantottesimo però capita sulla testa di Diamutene che gira la punizione di Vitelli ma non trova la porta per questione di attimi. Finisce dopo quattro minuti di recupero con le due squadre che vanno a ricevere i meritati applausi dalle rispettive tifoserie dopo aver dato vita a un secondo tempo molto avvincente. Da un derby all'altro a quello giocato al Mariani Pavone dove il Pineto ha battuto di misura 1-0 il Chieti. Un Pineto cinico supera Chieti e rialza la testa decide Tomassini. Per i neroverdi è sempre più crisi. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto nella sfida tra Bianco Celesti e neroverdi nelle parole di Andrea Costantini. Un derby da pareggio con due squadre contratte. Lo vince però il Pineto nel finale con un gol rapace di Tomassini contestato dal Chieti per un presunto fallo di mano. Chieti che dal canto suo poco prima di subire la rete aveva avuto la palla del vantaggio. Si fa in salita la strada verso la salvezza dei neroverdi mentre il Pineto torna a sorridere dopo due stop di fila. Tra i padroni di casa c'è il ritorno in campo di Della Quercia nella linea di difesa nella quale Amaulo esclude Speranza, problema alla caviglia, e Marini. I due finiscono in panchina. 4-2-3-1 con Alessandro a ridosso di Tomassini. Nel Chieti Di Meo vare il 4-4-1-1, ridà fiducia a Bruno tra i pari, inserisce Bagigalupo a sostegno di Sibilla. In panca Traini e l'ultimo è arrivato Leonetti. In campo Sarrizu, ex della gara, al pari dei pinettesi Pepe e Alessandro. Gara giocata a ritmi bassi e che stenta a decollare. Al diciottesimo a quadro, sistemato da Amaulo a sinistra, crossa per il colpo di testa di Festa, di poco fuori. A cavallo del ventitresimo, il momento migliore dei padroni di casa, a quadro si libera bene al tiro, una rasoiata toccata da Bruno che finisce a fil di palo. Sul seguente corner, terzo tempo di Pierpaoli che tutto solo spreca una ghiotta a palla gol. Il Pineto non trae l'infa da queste opportunità. Il Chieti non si scompone e crea un paio di situazioni interessanti a fine frazione. Trettanovesimo, pericoloso cross basso di Sarrizu, Bagigalupo non arriva, la difesa sventa. Al quarantatresimo è il turno di Favo che riceve spalle alla porta, si gira bene ma non inquadra il bersaglio grosso. All'intervallo è così 0-0 tra Pineto e Chieti. Nella ripresa al quinto prova a farsi vedere Alessandro ma senza infastidire Bruno, il quale è attento anche sulla punizione di a quadro all'undicesimo che filtra in barriera. Dimeo e Amaolo fanno ricorso alla panchina per rendere le squadre più offensive. Nel Chieti entrano Milizia, Franchi e Traini e proprio Milizia impenserisce Amadio con un velenoso destro che impegna severamente l'estremo difensore pinetese. Nel frattempo con un triplo cambio e l'innesto di Ciarcelluti, Simoncelli e Di Giovacchino, Amaolo passa al classico 4-4-2 ma il Chieti a sfiorare il vantaggio poco prima della mezz'ora col filtrante di Meola per Sivilla il cui lob sorvola la traversa. E l'ultima azione per Sivilla che lascia il campo a Palmisano ma il Chieti paga la palagollo sciupata al trentasettesimo quando dopo un'azione di ripartenza Ciarcelluti fa partire un destro violentissimo rispinto da Bruno. Sulla sfera si avventa Simoncelli che disegna un cross perfetto che scavalca Bruno e che trova pronto l'appuntamento col gol partita Simone Tomassini. 1-0 per il Pineto col centroavanti che si butta alle spalle l'erroraccio di Fiugi. Il gol è una ammazzata per il Chieti che non solo non ha la forza di reagire ma rischia di incassare il secondo gol con i tentativi di Di Giovacchino e Bianciardi. Dopo 5 minuti di recupero può far festa il Pineto per una vittoria che permette di riagganciare un piazzamento playoff. Per il Chieti brutto inizio di 2020. 0 punti e 0 consegnato. Vedete dunque anche il titolo lo vediamo inquadrato eccolo qui riscatto Pineto Tomassini piega il Chieti di meno sconfitta e meritata siamo vivi e lotteremo dice il trainer nero verde ma la classifica non è sicuramente una bella classifica e andiamo a vedere invece quello che è accaduto ieri nel big match della giornata del girone F con il tris del campo basso al Savini contro il notaresco per la formazione di Vagnoni e uno stop amarissimo. Vediamo dunque il servizio sulla sfida giocata dinanzi ad un pubblico record tripletta di Cogliati per i molisani. Va al campo basso il big match del girone F con il tecnico molisano Mirko Cudini che riesce a togliersi la soddisfazione di battere la sua ex squadra e riaprire così i giochi in testa alla classifica. Al Savini finisce 3 a 1 per i molisani grazie ad una tripletta di Cogliati padrone di casa in casacca bianca in campo con il 4-3-1-2 ospiti che rispondono con il 4-3-3 spalti gremiti con oltre 200 tifosi giunti dal capoluogo molisano. Al secondo minuto subito campo basso intraprendente con Zammarchi che in area abruzzese calcia fra le braccia di Scotti arrivato in settimana nella squadra del presidente Di Giovanni. La risposta locale a nono è clamorosa con Liguori che dalla sinistra crossa per Frulla che dalla zona del dischetto mette incredibilmente sopra la traversa. Al dodicesimo ancora in avanti la squadra abruzzese con un tiro di Cancelli parato da Raccichini. Le due formazioni dimostrano sin dalle prime battute di volere portare a casa l'intera posta e attaccano con gli abruzzesi ancora pericolosi al quindicesimo con un colpo di testa di Romano parato ancora dall'estremo molisano. Sale di intensità con il trascorrere dei minuti però la pressione dei bianchi di casa con Frulla ancora pericolosissimo. Al diciottesimo con una incornata che manda la sfera al lato di un nulla. Tiene la squadra di Cudini che al trentatresimo si rende pericolosa con Cogliati che scalda le mani a Scotti che respinge non senza qualche difficoltà. Il punteggio resta così fermo sullo 0-0 con la capolista nella parte finale di primo tempo meno pericoloso quando Cancelli approfitta di un rinvio corto di Raccichini chiamando poi le portiere del campo basso al salvataggio in calcio d'angolo. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti trovano il vantaggio dopo un pallone perso da Morganti a centrocampo e con Cogliati che al termine di un'azione fulminia beffa Scotti regalando il vantaggio alla sua squadra. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 e la ripresa al terzo minuto vede subito alla prima occasione utile il raddoppio molisano ancora con Cogliati che supera per la seconda volta Scotti andando poi a festeggiare il raddoppio della sua squadra sotto il settore dei tifosi molisani. Per il giocatore della formazione rosso-blu ospite è la doppietta personale. Per il notaresco una mazzata invece con la squadra di Vagnoni che però non demorde trovando una reazione efficace il gol del 2-1 al dodicesimo con Romano che di testa riapre così i giochi. Si rianimano i tifosi di casa con i locali che cercano di spingere ancora la ricerca del 2-2 mancando però in lucidità ed incisività con il nervosismo che fa il resto in un pomeriggio con tanti cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Il notaresco spinge ma non riesce mai veramente a rendersi pericoloso. Nel finale di gara poi accade di tutto. Al 39esimo Romano in area molisana l'occasione propizia ma non riesce a concludere. Prima del rosso a Sansovini al 44esimo per proteste che erano probabilmente dirette non all'assistente ma un giocatore del campo basso. Poi al 52esimo arriva anche l'errore di Scotti che regala accogliati il terzo gol e la tripletta personale. Il campo basso vince per 3-1 e il notaresco vede ora avvicinarsi il Matelica arrivato a meno 6. Notamare per l'Avezzano. Siamo nella zona bassa della classifica. Vedete l'Avezzano va capò in casa con la Sangiustese sbaglia il portiere Camerlengo. Vediamo anche sul quotidiano il centro. Avezzano sconfitto tra i fischi dei tifosi. Brinda la Sangiustese. Allora andiamo a vedere il servizio su quello che è accaduto allo Stadio dei Marsi. L'Avezzano a caccia di conferme dopo il pareggio di sette giorni fa contro il campo basso ospita una Sangiustese reduce da quattro sconfitte consecutive e che non vince dallo scorso 27 ottobre. Marchigiani guidati in panchina dall'ex forlì Nicola Campedelli che in settimana ha preso il posto dell'esonerato senigayesi. Mecomonaco oggi squalificato ripropone di Curzio al centro dell'attacco supportato da Quatrana e Agate. A centrocampo spazio a Crass per lo squalificato traditi nella Sangiustese subito in campo l'ultimo arrivato dell'Aquila nel 4-4-2 in cui Buonaventura e Mingiano fungono da riferimenti offensivi. Fase di studio in avvio per attendere la prima occasione da gol. Si deve arrivare fino al quarto d'ora quando Crass arma il sinistro ma non inquadra e spedisce lontano dallo specchio. Al ventesimo è il turno di Agate che tenta il colpo a giro, sfera che non impensierisce Chiodini. Al ventiquattresimo la Sangiustese passa al primo a fondo. Camerlengo perde il pallone in uscita e per Buonaventura è un gioco da ragazzi. Inzaccare l'1-0. Primo gol in maglia rosso-blu per l'ex Foligno. Terzo errore decisivo in altrettante uscite per il portiere ex Chieti. L'Avezzano prova a reagire con Magri che impatta di testa e spedisce al lato di un soffio più pericolosa l'incornata di Quatrana che centra in pieno la traversa. Sulla ribattuta Agate non ha il tempo di coordinarsi e blocca facile Chiodini. Nel finale di tempo l'arbitro Gemelli di Messina ammonisce Masini dalla panchina per protesta e giallo ingenuo che peserà e non poco sulle sorti dell'incontro. In avvio di ripresa Mecomonaco getta nella mischia l'argentino per un impalpabile di Curzio. E al tredicesimo è ancora pericoloso Magri che stacca più in alto di tutti e centra il palo a Chiodini battuto. Nemmeno il tempo di rammaricarsi per il secondo legno di giornata che Buonaventura scappa via di Gian Felice. Decisivo l'intervento di Camerlengo. Al ventesimo arriva l'altro episodio chiave del match. Masini rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Irremovibile il direttore di gara che manda l'argentino anzitempo negli spoiatoi. Tre giri di lancetta e la San Giustese sfiora il colpo del K.O. Ma il tentativo di Buonaventura trova solo l'esterno della rete. Mecomonaco inserisce anche Cancelli per Pugliegli e Direnzo per Morales. Mentre Campedelli risponde con Palladini per Dell'Aquila. Mellavezzano ad avere la palla del pareggio con la rasoiata di Gras che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Chiodini. Al trentatresimo altra chance dei marchigiani con il piazzato di Bambozzi che mette brividi a Camerlengo. L'ultimo tentativo dellavezzano porta la firma di Quatrana che si libera e va al tiro. Conclusione facile tra le braccia di Chiodini. Finisce con la quarta sconfitta nelle ultime otto partite per i biancoverdi che non vincono ormai da due mesi. Tre punti fondamentali per la San Giustese che vola a quota 20 e torna a gioire dopo un digiuno durato nove giornate. Per l'avezzano critiche dagli spalti e tempo di riflessioni. Noi siamo al calcio regionale di eccellenza per vedere quello che è accaduto nella giornata di ieri con la sconfitta del Lanciano. Flop inaspettato. I frentani cadono in casa con l'acqua e sapone. 2-0 per la formazione pescarese. Le altre gare Torrese Penne 3-0. Capistrello Bagica Lupo Vasto 2-1. Delfino Flacco Porto Nereto 1-1. E poi il Castelnuovo capolista e irresistibile a Puiundici sul Lanciano dopo la vittoria per 4-0 a Spoltore. Poi Alba Adriatica Pontevomano 1-4. Renato Curi Angolana Angizia Luco 1-0. San Buceto che batte il paterno 2-0. Virtus Cupello Nero Stellati 3-2. Vediamo la promozione. Il Girone A. L'Aquila Cala il Tris. Carosone Show si inventa l'Euro goal. L'Aquila Pizzoli 3-0. E poi Montorio 88. Realatria 4-3. Nuova Santigidiese Rosetana 4-1. Morodoro Mutignano 0-2. Fontanelle Mosciano 1-1. Celano torna in parte 3-2. Pucetta New Club Villa Mattoni 4-1. Amiternina Piano Della Lente 3-0. Miano San Gregorio 4-2. Il Girone B Casalbordino. Giornata no. Elicese torna con un punto 0-0. Casalbordino e Elicese. Miglianico Ovidiana 0-2. Scafa Passo Cordone Fate Rangelini 2-1. Baldisangro Virtus Ortona 0-0. Ortona Treti Clanciano 1-1. Fossa Cesia San Salvo 0-1. Silvi San Giovanni Tiatino 0-1. Villa 2015 Bucchianico 2-0. Raiano Casolana 2-0. Chiudiamo l'ampia pagina del calcio. Siamo praticamente in chiusura. Abbiamo il tempo però per vedere le notizie che riguardano il basket e poi il volley. Ecco qui il basket a due maschile. Rosetto senza scampo. Trionfa Verona che passa al Palamaggetti per 84 a 76. Vediamo anche quello che è accaduto in Serie B dove il derby va a Chieti che batte Giulianovo 87 a 61. Teramo battuta in casa per 70 a 68 da Iesi. Vediamo la prossima pagina sempre con il basket. L'AC Gold con Vasto che perde a Pesaro 78 a 69. Lanciano Virtus Assisi 87 a 73. Maggi Chichieti Vigor Matelica 73 a 65. Il basket di Serie C maschile Serie C Silver. Amatori Pescara Antoniana 65 a 57. E poi Air Termoli Pescara 58 a 64. Teramo a Spicchi Torrespes 90 a 62. Farnese Mociano 66 a 64. Nuovo basket Aquilano Airino Termoli 118 a 36 in classifica. Comanda Pescara con 22 punti. Mosciano e Teramo a Spicchi 18. Chiudiamo con il volley. Riscatto si è cortona. Ora è seconda in classifica. Batte Reggio Emilia per 3 a 1. I parziali 25-21, 29-27, 23-25, 25-20 per la formazione ortonese. Mercoledì di nuovo in campo contro Brescia per il pass, per cercare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 13 gennaio con Mattino 6. Mattino 6 la nostra rassegna stampa che tornerà come sempre domani puntuale alle 8. e ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della nostra rete alle 14, la prima edizione del TG6, le altre edizioni alle 19 e alle 23, ma torna questa sera come sempre, come ogni lunedì sera, replay in diretta dai nostri studi con Enrico Rocchi per parlare del Pescara di mercato e della gara di domenica prossima in campionato con la Salernitana. È davvero tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.